salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi andremo ad attivare la visualizzazione grafica dei tensori parcheggio posteriore che nel momento in cui come in questa macchina un audi a1 una 8x del 2015 ed è dotata dei sensori di parcheggio posteriore nel momento in cui noi andiamo a mettere la retromarcia in questo caso sentiamo solamente i bip dei sensori di parcheggio posteriori come potete ben sentire nel momento in cui andiamo a vedere a guardare il display non esce la macchina la visualizzazione grafica della macchina noi entriamo a fare in questo in questo video andiamo ad attivare la visualizzazione della macchina così da uscire la macchina sullo sfondo del sistema mmi con le varie parentesi sia posteriori sia anteriori in questo caso funzioneranno solo quelle posteriori perché questa macchina è dotato solo di sensori parcheggio posteriori e quindi quella avanti non funzioneranno nel momento in cui questa macchina avrebbe anche quelli avanti sarebbe dotata anche dei sensori avanti funzionerebbero anche quelli davanti come si fa questa codifica vi faccio vedere subito ok come sempre abbiamo bisogno del nostro vcds collegato alla macchina tramite il cavo vaga ok andiamo accendiamo il nostro video facciamo parte il nostro cds colleghiamo il cavo vaga tra il compito e la macchina andiamo a fare una piccola scansione come sempre vi ricordo che questo qua è un audi a1 del 2015 una 8x giusto per farvi capire facciamo la scansione io in queste cose non la faccio partire perché già l'ho fatta la scansione però per evitare di far diventare il video un po troppo lungo e quindi io salto questa procedura qua ma voi non fate non saltatela voi fate tutta la scansione aspettate che comunque finisca la scansione nel momento in cui vi da qualche tipo di errore qualche tipo di allarme o qualsiasi altro diciamo allarme generico andate qua in cancellare guasti date confermo ok una volta che cancela tutti tutti i guasti andiamo qua chiudere e iniziamo andare nelle centrale della macchina selezionare in questo caso siccome si tratta dei sensori parcheggio possibili da un'assistenza al parcheggio poi attendiamo qualche secondo che si legge la centrale in andiamo in sicurezza accesso sicurezza comparirà un numero eccolo qua il 71 679 andremo ad immettere in questa casella qua questo codice 71 679 andremo ad accedere quindi a confermare questo codice accesso di sicurezza accettato poi andiamo in codifica 07 questa qua codifica lunga e già ci compare questo centralina qua riguardante la visualizzazione ottica vedete dei sensori di parcheggio inattiva a noi che entriamo a fare andremo a mettere da inattiva quindi dal da questo olore 00 a dobbiamo entrare in 08 visualizzazione ottica attiva questi qua questa configurazione qua va bene sia per i vecchi sistemi che per i nuovi sistemi il byte e il byte 0 bit come potete vedere 2 barra 3 da 00 lo portiamo a 08 così usciamo dalla centralina confermiamo la codifica appena effettuata attendiamo qualche secondo e vediamo la risposta ok codifica accettata non è finito qui dobbiamo fare un altro passaggio ancora il passaggio che dobbiamo fare di riavviare il sistema per confermare anche la codifica all'interno del sistema come si fa a riavviare in base al sistema che abbiamo nella macchina abbiamo due sistemi per riavviare il sistema il primo è questo qua allora per questo sistema qua anzi parliamo prima dell'altro sistema l'altro sistema che ha la sim all'interno qua bisogna premere menu questo centrale e questo qua quindi menu 1 2 e 3 e si avviene il sistema e senza sim per quanto riguarda il riavvio sarebbe back la rotellina e questo qua di sopra andiamo a provare ok per riavviare come dicevo back rotella e questo tasto sopra qua vi faccio vedere back rotella e il tasto sopra prevedono per sei secondi dopodiché togliete le mani ecco qua e il sistema si è riavviato una volta una volta fatto ciò dobbiamo continuare con la codifica da fare perché non è finita qui aspettiamo che il sistema si è riavviato senza chiudiamo senza chiudere la centralina andiamo sempre in questa centralina qua sempre la 10 assistenza al parcheggio poi questa volta andiamo in adattamento 10 apriamo il menu a tendina per esempio questo qua e se vi avvicinate adesso vi faccio vedere esce scritto questo codice qua ide 01170 indicazione visiva dell'aiuto al parcheggio selezioniamo questo valore qua indicazioni ops andiamo qui ad attivare indicazioni ops perfetto ma in questo modo già è attivo ma in alcune macchine può essere disattivata questa funzione io ho fatto vedere tutto il passaggio completo così da con da diciamo da fare la codifica completa come vi dicevo vedete che già impostato questa attivazione qua e quindi anche se andiamo a confermare adesso diciamoci da la stessa cosa io vi ho fatto vedere perché delle volte capite questa disattivazione qua grafica e disattivata e quindi ad ogni modo comunque voi non vedete la visualizzazione grafica all'interno del vostro sistema andiamo a codificare ad attivare questa funzione si perfetto lo sentirebbe accettavano usciamo usciamo un'altra qui perfetto è la codifica estera completa dal 100 per cento adesso vi faccio vedere nel momento in cui io adesso vado a mettere la retromarcia all'interno del display comparirà la macchina stessa guardate perfetto vedete vedete perfetto e a mano ho anche un ostacolo ho una serie dietro e una versione passata dietro ho una serie dietro così da farvi vedere la parentesi qua vedete che comunque c'è qualcosa di un ostacolo dietro adesso la serie è stata tolta ecco qua ok nel momento in cui giustamente andiamo a togliere l'arretromarcia come ho fatto adesso in questo caso si toglie la rappresentazione visiva vado a rimettere e si riattiva vado a togliere e giustamente si toglie perfetto ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile come sempre iscrivetevi al canale condividete il video attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutti i miei video e per qualsiasi cosa commentate nei commenti scrivete un messaggio e qualsiasi cosa io posso fare vi posso tranquillamente aiutare ok ragazzi ciao ragazzi al prossimo video grazie a tutti i miei video grazie a tutti i miei video